A nessuno piace parlare del proprio disagio, per questo è difficile combattere il cyberbullismo. Per dare alle vittime la possibilità di parlarne con serenità, abbiamo chiesto loro di farlo con un'intelligenza artificiale. È così che è nata The AID, la prima mostra che con illustrazioni digitali condivide la realtà del cyberbullismo con il mondo. Se sei una vittima o testimone di un atto di cyberbullismo, scrivi al nostro canale Telegram. Grazie.